Scontro al vertice della classifica nel quinto turno di Serie D, quello del Tubaldi di Recanati, dove i padroni di casa, primi a punteggio pieno, se la vedranno con il notaresco di Roberto Vagnoni. La rimonta in graduatoria del rosso-blu finora è prepotente, tre successi nelle ultime tre partite, la sensazione che l'entusiasmo in casa notareschina possa fare la differenza anche al cospetto di un 11 di grande calibro, come quello messo a disposizione di Federico Giampaolo. Gara interna invece per il Pineto, che in settimana ha avuto l'impegno di Coppa Italia contro l'Avezzano, ma che deve cambiare marce in campionato per tornare nella parte sinistra della classifica. L'avversario tuttavia è di quelli tosti, perché al Mariani Pavone arriva il campo basso di Mirko Cudini, altra big, che ha iniziato un po' in sordina questo torneo. I molisani hanno battuto la vastese non più tardi di sette giorni fa, mentre i bianco-azzurri hanno impattato ad Agnone col vasto Girardi, andamento a singhiozzo che domani potrebbe vedere o l'una o l'altra dare continuità di risultati positivi. Pineto che attende di avere ancora l'organico al completo a disposizione, ma bisognoso di un successo dinanzi al pubblico amico. Altro impegno interno quello della vastese, che all'Aragona proverà a dimenticare lo stop del nuovo Romagnoli contro un'altra compagine rosso-blu la Sangiustese. Finora nel suo stadio la squadra di Marco Amelia ha fatto sempre risultati positivi, più problemi invece in trasferta. La partita è abbordabile contro l'undici, quello di Senigallesi, che invece lontano da casa finora ha raccolto un punto all'esordio a Tolentino, ma attenzione, il Pineto proprio con la Sangiustese ha rischiato grosso e i marchigiani sono avversario temibile. Al Dei Marsi di Avezzano invece scontro delicato tra i Biancoverdi e la Jesina, anche se in questo momento sono le vicende extracampo a tenere banco nella Marsica. L'esonero di Meco Monaco, l'addio della bandiera Chicco Fanti è una situazione ancora in divenire, non sono affatto gli ingredienti migliori per affrontare le oncelli, che navigano a due punti in classifica. Le due squadre che invece giocheranno in trasferta, oltre al notaresco, sono Chieti e Giulianova. Nero-verdi che vanno a far visita al Matelica, altra big che sta stentando e non poco. La squadra di Gannoni invece dopo il pari con l'Agnonese ha dimostrato, ancora una volta, di essere squadra tosta e difficile da piegare. Ci vorrà parecchia solidità, anche se i marchigiani hanno steccato anche in Coppa Italia e sembrano vivere una fase di sbandamento. Trasferta in Molise invece per il Giulianova, proprio da Gnone. Il pareggio interno col Monte Giorgio ha lasciato qualche piccola amarezza, ma finora il chiare giallo-rosso può dirsi mezzo pieno. La squadra di Delgrosso è stata rinforzata e adesso può giocarsela alla pari contro chiunque.